Le spose bambine è un fenomeno veramente gravissimo, è un fenomeno che va combattuto. Si ricorda anche che è un fenomeno che non è solo di stati stranieri, ma è un fenomeno che si sta realizzando anche in Italia. Ci sono bambini e anche bambini costretti a matrimoni con persone molto più grandi di loro e arrivano addirittura alla morte, in conseguenza anche di parti precoci. Noi abbiamo voluto con questo disegno di legge introdurre un reato che non esiste attualmente, un reato che punisce le condotte di chi obbliga a un matrimonio fra un minorenne e una persona più grande. Sono delle norme che sono di civiltà, che noi dobbiamo assolutamente varare e che assolutamente questo governo e la maggioranza dovranno accettare. Se non lo fanno è un atto di pura inciviltà.